Te l'ho detto, l'animus non ha ancora finito di elaborare il DNA di Aya. Ok, ok. Che cos'hai? Il serpente. E se non fosse l'ultimo? Certo che era l'ultimo. Sono tutti morti. Giustizia è stata fatta. Se c'è una qualsiasi domanda, Apollo d'Oro risponderà. Sa ogni cosa. E dove potrai trovare quest'uomo tanto saggio? È con Cleopatra, ma prima trova il suo uomo all'ippodromo. Ehi! Dirò a Fano che Gennati è morto e tornerò da te. Goditi l'ippodromo e non spendere tutte le tue monete alle corse. Doh! Doh! Ehi, grazie! Ehi, grazie! Ehi... Ehi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.